Allora, quindi il tema di questa lezione, il tema di questa lezione sono i tre simboli della triade i tre simboli, se volete dare un titolo, i tre simboli della triade che adesso sapete come trovare i tre simboli della triade sono alimentatore stimolatore penalizzante e stimolatore gratificante noto anche come simbolo egemone allora, ogni persona ha questi tre simboli della triade combinati in vario modo le varie combinazioni che vengono fuori sono otto combinazioni due alla terza sarebbe, otto combinazioni, perché sono tre simboli combinati due a due insomma, due alla terza che fa otto quindi sono otto combinazioni per le donne e otto combinazioni per gli uomini e adesso sappiamo come ricavarli quindi una volta che ho riconosciuto in qualche modo l'alimentatore adesso parleremo so che lo stimolatore penalizzante è omologo se la persona si aggancia sul desiderio ed è eterologo se la persona si aggancia sul possesso salutiamo Christian mentre il gratificante è il terzo segno mancante quindi in questo modo avete tutte le possibilità di ricavare tramite un'equazione tutte le varie combinazioni adesso cerchiamo di capire però come riconoscere perché abbiamo detto bene, io se ho queste informazioni riesco a riconoscere allora, quindi facciamo una lezione oggi un po' più pratica un po' più pratica per capire come posso riconoscere perché poi non è che io possa andare in giro con la tabella diciamo, vediamo questo, cosa fa, no? devo avere delle informazioni per riconoscere quindi ce li facciamo, alterniamo un po' perché poi ci saranno altre lezioni un po' contorte, diciamo un po' complesse e quindi invece vediamo un po' una lezione un po' più pratica su come riconoscere allora, io incontro una persona e devo capire che simbolo ha quindi la prima cosa che devo fare è prestare attenzione ai suoi comportamenti e alla sua gestualità perché i comportamenti e la sua gestualità i comportamenti, le parole, la sua gestualità come abbiamo detto rimandano al simbolo al suo simbolo alimentatore al suo simbolo alimentatore allora quindi vediamo quindi riprendiamo un attimino soprattutto le tipologie egocentriche sono un po' più complesse perché una persona le tipologie genitoriali cioè conflittuale padre o conflittuale madre sono più facilmente riconoscibili perché anche gli egocentrici sono facilmente riconoscibili ma è più difficile poi discriminare tra ego maschio e ego femmine allora cerchiamo di fare un po' di luce un po' di chiarezza un uomo partiamo da un uomo quindi vediamo rapidamente diciamo gli alimentatori perché ne abbiamo già parlato ma ci interessa anche a livello non verbale allora un uomo che è conflittuale padre intanto tutto riporta all'asta tenderà a essere rigido tenderà a gesticolare in questo modo tenderà a tenere la penna in questo modo tenderà a usare parole che per analogia o per contrasto riportano al simbolo del pene lungo, duro ma anche mollo e corto flessibile ma anche rigido e ovviamente le utilizzerà nei discorsi che farà questo è stato un inverno molto rigido è duro affrontare bla 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 la situazione poi gesticolare in questo modo avrà un comportamento che sarà tendenzialmente cazziante ecco con te non c'è niente da fare non capisci un cazzo vaffancur per dire cioè ti amplifica il problema e ti nega la soluzione al problema questo è il conflittuale padre il conflittuale madre viceversa tenderà a essere protettivo tenderà a essere morbido tenderà a utilizzare delle parole che per analogia o per contrasto riportano al simbolo della vagina quindi dobbiamo essere di larghe vedute dobbiamo accogliere dobbiamo accogliere tutti i profughi che arrivano proteggerli perché le intemperie possono anzi vado io quasi quasi questa notte con la barca raccogliere qualcuno oppure insomma non lo so tenderà a essere oppure ce l'avrà con ecco mentre il conflittuale padre sarà incazzato con gli uomini perché è incazzato col padre il conflittuale madre sarà incazzato con la madre e di conseguenza con tutte le donne che però rappresentano anche il soggetto di desiderio se è eterosessuale quindi rappresentano ciò che rappresenta ciò che desidera ma anche sessualmente magari ma anche lo fa incazzare no perché e quindi tenderanno a sviluppare diciamo così introduciamo questo concetto un pensiero dominante o un pensiero prevalente o un pensiero egemone che poi di fatto è una generalizzazione è una generalizzazione da un punto di vista della PNL cioè la generalizzazione no il conflittuale padre no il contrario il contrario il conflittuale padre non salva il padre no 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 non salva il padre no no non lo sa cioè non è che salva il padre e manifesta un rancore salva il padre ma attacca gli altri uomini certo salva il padre perché come dici giustamente tu il padre difficilmente lo accusa perché rappresenta la fonte del problema quindi un conflittuale padre non ti dirà mai mio padre un coglione mio padre uno stronzo perché il padre rappresenta come dice giustamente Cristian il diciamo il conflitto quindi ecco grazie dell'osservazione ha fatto un'osservazione semi giusta Cristian però mi permette di dire che infatti una cosa che non serve è chiedere perché se voi chiedete a una persona ma scusa ma tu sei incazzato con tuo padre non è detto che ti dica di sì anche se è un conflittuale padre proprio perché per il meccanismo della rimozione salva il padre ma attacca tutti gli altri uomini attacca gli altri uomini perché non sono suo padre mentre un conflittuale padre un conflittuale madre scusate no 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 il conflittuale padre il conflittuale padre salva il padre e attacca gli uomini gli altri uomini in generale dicendo gli uomini sono tutti bastardi gli uomini giusta considerazione è un cazzo che è giusta considerazione non è una giusta considerazione è parziale la giusta non è giusta considerazione sto cazzo ho un problema con questo genitore però per me rappresenta la vita no non c'entra la colpa non è delle donne la colpa è degli uomini perché lui rimuove il conflitto col padre rimuove il conflitto col padre e attacca gli uomini e attacca gli uomini quindi generalizza con gli uomini no dirà gli uomini sono tutti stronzi gli uomini non capiscono un caso sono tutti bastardi infatti un conflittuale padre se viene cornificato se la prenderà con l'amante non se la prenderà con la moglie perché la moglie è una poveretta che si è fatta raggirare da quello stronzo che è andata a fare i corsi da Taramasco magari se la pia con me che mi ha pure insegnato come sedurre le donne e quello si è trombato sua moglie che è una poverata è una cretina sua moglie però è una poveraccia perché è stata raggirata da quello che con arti magiche arti seduttive la sedotta mentre invece un uomo conflittuale un uomo conflittuale madre un uomo conflittuale madre un uomo conflittuale madre ma no che è così che cazzo dici un uomo conflittuale madre è incazzato con la madre ma non te lo dirà che è incazzato con la madre ma per generalizzazione è incazzato con tutte le donne quindi un uomo conflittuale madre un uomo conflittuale madre se diciamo viene tradito se la prenderà con la moglie non con l'amante tenderà a giustificare l'amante e a non giustificare la moglie perché l'amante è un poveraccio che è stato raggirato da quella troia di mia moglie da quella troia di mia moglie che è una ninfomane e se li scopa tutti perché lui c'è il suo pensiero sarebbe che la troia è la madre che la troia è la madre però ovviamente rimuove come dice giustamente cristian il concetto che che la madre è una troia perché la madre perché proprio perché ha avuto il conflitto rimuove e estende no è come il serial killer no messo in termini poi più generali che il rancore con la madre lo sfoga su tutte le donne sulle altre donne lo sfoga sulle altre donne e quindi l'uomo conflittuale madre se vi vengono fatte le corna giustifica il lamante ma penalizza la moglie che è una troia una puttana che se li fa tutti anzi si fa anche quelli che non ci starebbero perché lei va proprio lì lo tira fuori insomma e ci prova con tutti e quindi una troia ecco quindi viceversa diciamo l'uomo conflittuale padre c'è la generalizza è una generalizzazione no quindi c'è sto pensiero dominante diciamo l'uomo conflittuale padre pensa gli uomini sono eccetto lui fondamentalmente ed eccetto il padre che è rimosso gli uomini sono tutti figli di puttana puttanieri mi metteranno i bastoni tra le ruote perché il problema è l'antagonista no tra l'altro iniziate a incamerare queste informazioni perché poi parleremo di triadi ma in realtà parleremo di diadi e di triadi perché nelle diciamo tipologie genitoriali non esistono le triadi esistono le diadi quando andremo a parlare di diadi e di triadi mentre nelle tipologie egocentriche esistono le triadi perché ci sono tre elementi quindi a livello di diade iniziate a incamerare questa informazione un uomo conflittuale padre ha l'antagonista presunto perché l'antagonista vive dentro di lui quindi uomo conflittuale padre ha l'antagonista presunto questa è un'informazione che poi vi servirà anche dopo uomo conflittuale padre ha antagonista presunto è presunto perché 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 lui è conflittuale padre quindi l'antagonista ce l'ha dentro perché il conflitto ce l'ha interiore e non è esterno a lui ecco diciamo così non è esterno a lui il conflitto antagonista e quindi è presunto cioè presume l'esistenza di un antagonista a seconda di come si comporta l'oggetto di desiderio ma in realtà è lui che è in conflitto con se stesso cioè perché lui è in conflitto con se stesso perché perché lui è maschio ed è conflittuale padre quindi alla fine sviluppa il conflitto con il suo stesso genere è come se il padre vivesse dentro di lui cioè è chiaro no questo antagonista presunto mentre invece un uomo conflittuale madre ha l'antagonista reale antagonista reale e l'antagonista diciamo chi è è sono soggetti è il soggetto femminile che antagonizza con lui tutte le donne che antagonizzano con lui quindi per quello che dicevo che se è eterosessuale l'antagonista e l'oggetto di desiderio coincidono quindi a letto col nemico perché un uomo conflittuale madre vive le donne come antagoniste perché l'antagonista era la madre questa collana è nuova no questa collana era di mia madre tra l'altro è una collana che era di mia madre ma non è nuova ed era di mia madre allora quindi questo è il concetto è chiaro allora no questo concetto è chiaro no questo concetto chiaro per tutti è chiaro no questo concetto è chiaro per tutti ok quindi diciamo quindi abbiamo visto come si comportano gli uomini genitoriali di uomini genitoriali vediamo come si comportano e quindi come li riconosco l'uomo conflittuale madre tenderà a gesticolare in questo modo tenderà a dare la carezza tenderà a dire sei la solita deficiente ma non ti preoccupare che ci penso io allora ci sono poi gli egocentrici gli egocentrici si dividono in ego maschio ed ego femmina e qua allora intanto dobbiamo capire che un egocentrico capire che una persona egocentrica è abbastanza facile a parte che sono un po' la maggioranza della popolazione no sono un po' la maggioranza ecco un altro modo per capire il conflittuale padre un altro modo per capire il conflittuale padre è che io emetto la gestualità cioè se io ho a che fare con un conflittuale padre e gli faccio questo gesto qua oppure uso le parole duro lunghe eccetera lui tenderà a grattarsi il naso a raschiare andare indietro perché gli dà fastidio è come se gli presentassi il padre e quindi a lui dà fastidio perché analogicamente rivive il conflitto quindi tende ad andare indietro tende a raschiare tende a distogliere lo sguardo a dare dei segnali di diciamo a dare dei segnali di rifiuto stesso discorso vale per un conflittuale madre se io gli faccio questo gesto mentre parlo no mentre parlo faccio questo gesto oppure faccio questo gesto oppure prendo le cose tengono a penna in questo modo in modo materno utilizzo parole morbido larga stretta eccetera eccetera lui tenderà a dare dei rifiuti tenderà ad andare indietro perché questo gli ricorda gli ricorda la figura materna allora vediamo brevemente le figure goceni qua il tempo volo sono già passati 27 minuti allora l'uomo ego maschio è un ex conflittuale madre quindi tenderà a emettere due simboli questo simbolo e questo simbolo gli emette due intanto devo capire che una persona egocentrica quindi le persone egocentriche tendono essere più indirette tendono a dare consigli cioè a fronte di problemi più indirettamente no mentre le figure genitoriali sono più dirette il conflitto alle madre ti dice ti aiuto io il conflitto alle padre ti dice sei un coglione però lo fa in modo diretto mentre tutti gli egocentrici ci girano un po' attorno alle cose no girano un po' attorno si accarezzano le mani e con questo è un altro gesto sì questo è un altro gesto di conflitto alle madre questo è un gesto di conflitto alle madre sì mentre gli egocentrici ecco se ho capito che è egocentrico diciamo così ho capito che egocentrico perché agisce indirettamente ogni tanto fa questo simbolo ogni tanto fa questo simbolo e in più ogni tanto emette questo simbolo ogni tanto emette questo cioè ne mette due di simboli diciamo che è un ego maschio perché l'ego maschio è un ex conflittuale madre se altresì diciamo ho capito che un egocentrico sempre per il fatto che è in bla 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 come dire indiretto eccetera eccetera ma vive la competizione con le donne con i maschi quindi l'ego maschio vive la competizione con i maschi perché ricordiamoci che l'ego maschio vive la competizione con i maschi e quindi tenderà sempre un po essere competitivo non antagonista cioè si aggancerà vedo che si aggancia quando c'è un altro maschio allora riesco a decodificare che l'ego maschio poi lo capisco anche da tante cose perché un ego maschio cerca si aggancia alla donna trasgressiva poi lo vedremo nelle triadi per renderle istituzionale un ego maschio maschio un ego maschio maschio tende a essere più istituzionale anche nell'abbigliamento cioè è un po più spento un po più morto diciamo no un ego maschio difficilmente metterà degli accessori femminili e l'ego maschio è l'uomo giacca e cravatta senza accessori particolari mentre magari un ego femmina è giacca e cravatta può mettersi la giacca e la cravatta ma magari si mette le scarpe da ginnastica magari si mette qualche anello diciamo gli anelli che sono cose oggetti tipici femminili le collane i bracciali gli orecchini piacciono di più all'ego femmina invece perché l'ego femmina è maschio diciamo ex conflittuale padre quindi tendenzialmente bacchettante siete delle cretine ve l'ho sempre detto dei deficienti non capite un cazzo siete dei minus habilis e contemporaneamente però diciamo un po di competitivo verso le donne e ha qualche accessorio che di solito utilizzano le donne un po più di eccentricità che può essere religio diciamo e va alla ricerca intanto penalizzo e va alla ricerca di donne più istituzionali per rendere le puttane mentre l'ego maschio cerca la puttana per renderla santa l'ego femmina cerca la santa per rendere la puttana questo a grandi linee ovviamente bene direi che abbiamo completato queste cose qua la prossima volta sarà di nuovo una lezione pratica perché voglio dobbiamo completare ce ne faremo un po di lezioni pratica adesso che tanto poi vi serviranno due tre lezioni pratiche diciamo operative con diciamo qualche esempio così per vedere anche gli stimolatori penalizzanti lo stimolatore gratificante e gli altri diciamo e anche la parte femminile quindi tutte lezioni pratiche lezioni pratiche due o tre lezioni perché poi c'è un po di teoria di nuovo un po pesante che voi che non avete tante capacità che siete un po diciamo deficitare da questo punto di vista è